abbiamo in servo per voi una cosa molto cara al ex presidente degli stati uniti ovvero e cerco di mandarmi anche un suo tweet sulla una sua recensione ovvero the apprentice alle origini di trump o altro film che arriva nei cinema questa settimana film sicuramente migliore di megalopolis lo posso dire senza nessun controllo interno ma neanche pensare a quello che ho detto perché sono molto convinto flavia se vuoi dentro la cartellina stampa c'è un un testo molto interessante su chi è roy con se non l'avessi messo a 24 chilometri da dove sono seduta lo vado a prendere no 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 faccio io grazie intanto vi leggo la recensione di lui come si chiama the orange donald trump e donald trump ha reagito così alla sicuramente non visione perché mi sarebbe cioè sembrebbe sarebbe troppo veramente troppo chiedere da lui una cosa del genere definisce così non l'ha visto così per sentito dire un film fasullo e primo di significato scritto su di me intitolato the apprentice tra virgol tra parentesi hanno il diritto di usare questo nome senza approvazione perché the apprentice è anche il nome del titolo del reality ma è anche l'apprendista pure topolino potrebbe avere la stessa la stessa richiesta o comunque si spera che venga che venga affossato usa il termine bomb sempre delicatissimo si tratta di un lavoro discure fatto a basso costo diffamatorio e politicamente disgustoso messo in circolazione proprio prima delle elezioni di presidenza del 2024 per cercare di danneggiare il più grande movimento politico della storia del nostro paese degli stati uniti il maga ovviamente la mia ex moglie c'è perché c'è anche ivana trump era una persona gentile era una persona gentile e molto premurosa e ho avuto che non può rispondere se no e ho avuto avuto un ottimo rapporto con lei fino al giorno della sua morte lo scrive proprio trump l'autore di questo mucchio di spazzatura sto traducendo al volo gabe sherman che tra l'altro è un signor autore il è uno scribacchino senza talento e di bassa lega da tempo ampliamente screditato da tutti ma ha scelto di ignorare questi cattivi feedback sul suo lavoro quindi bravo è così triste che il che alla feccia umana come le persone coinvolte in questa impresa che si spera non abbia successo sia permesso di dire e fare quello che vogliono per danneggiare un movimento non si può fare tutto quello che si vuole libertà di espressione sì ma quello che dice lui mi raccomando allora di apprentice è un gran film un gran bel film tra l'altro di un regista che avevamo molto amato da queste parti perché il regista alia basi il regista di only spider molto caldamente consigliato da noi ma è stato anche regista di alcuni di alcuni episodi di the last of us quindi una voce che proviene dall'iran è iraniano naturalizzato danese ma che sicuramente riesce a uscire anche raccontare con il suo stile più realtà in su hai perso la cuffia per uno starnuto meno male che ho registrato tutto così ci facciamo i real su the apprentice è un film passato pure lui al festival di can con sebastian stan e jeremiah strong sebastian stan e donald trump da giovane sebastian stan però nella mente di moltissime persone all'ascolto è il soldato d'inverno di no di di captain america nei film marvel quello che so l'inverno pensavo quello con il braccio di adamantio se non sbaglio che all'epoca era la cerrimo nemico di captain america ma nell'ultimo trailer si vede che usa la lavatrice la lavastoviglie per pulire il braccio di adamantio super fortone super mega gigantesco la risma però di sebastian stan è di andare da una parte all'altra delle corde della dell'attorialità e riuscire a fare sia il pupazzo di inverno sia il pupazzo d'arancio il pupazzo trump e lo fa con con grande maestria andando io l'ho visto anche in originale quindi andando anche verso i gesti la boccuccia il la duck face di trump ma raccontando moltissimo di quello che veramente racconta il titolo che non è un riferimento diretto alla trasmissione del degli anni che furono di di trump ma al rapporto di apprendistato di discepolo all'uno tra donald trump e roy con chi è roy con flavia hai trovato il roy con è l'avvocato di donald trump che è colui che gli ha un po' insegnato quelle che sono le regole del mondo degli affari no c'è avvocato anche un po mentore forse sì 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 molto molto spregiudicato si incontrano nel film in un lui è morto nell'86 sì con quello vero quello vero il anche nel film assistiamo al suo funerale spoiler ma appunto è un biopic quindi è anche un lodevole la vicinanza con la realtà e tra l'altro per complicazioni dovute all'ids esatto esatto il film distribuito da bim in in italia racconta proprio questo questo rapporto appunto di apprendistato è molto intelligente portare sia la il punto di vista anzi anche titillare il pregiudizio dello spettatore su ok racconteranno tutte le le nefandezze di trump ma invece la storia è leggermente spostata leggermente spostata su un rapporto più umano che non più di tanto fa arrivare all'empatia con questo povero rampollo perché il personaggio è oltre le le aspettative oltre la possibilità di empatia ma sicuramente si fanno dei rimandi delle dei collegamenti a volte questo va a ostacolare la visione un po è d'intralcio il rimandi agli occhiolini dallo spettatore a quello che succede nel nel mentre nella storia però è molto molto interessante vedere più o meno da dove germoglia il tutto vi faccio sentire un minuto e 26 di clip proprio tra il primo incontro tra trump e roy con in un lussuosissimo club dove trump è il nuovo arrivato e invece roy con è talmente inserito che ha una stanzetta tutta per sé una stanzetta dove può cibarsi cioè può cenare con personaggi che sembrano usciti da i colleghi di tony ciccione dei simpson per non dire degli autentici mafiosi spietato con la scusami leggo una cosa che forse è di limente rispetto a questo film leggo dall'articolo del post su the apprentice che dice the apprentice si svolge negli anni 80 va bene presenta donald trump come giovane imprenditore del settore immobiliare di new york e di scalza fortuna ma molta ambizione proprio questa ambizione lo fa entrare in contatto con il potente avvocato dell'epoca roy con che decide di aiutarlo e gli insegna tutto quello che secondo lui serve sapere per emergere quell'incontro e ciò che trump impara cambiano la sua carriera e formano quello che agli occhi degli spettatori del 2024 e il donald trump moderno un uomo che ha capito che una bugia ripetuta a sufficienza può essere spacciata per verità che usa il sistema giudiziario come arma contro gli avversari e che sistematicamente fa in modo di avere l'attenzione mediatica su di sé mi sembra diciamo un riassunto perfetto tra l'altro the apprentice in questo caso veramente ha una doppia valenza cioè la valenza del programma che poi ha visto donald trump comportarsi come colui che fa da non dico mentore perché una parola fin troppo buona diciamo da in italia è stato fatto da da briatore con dei giovani ma lui a sua volta in realtà è l'apprentice l'apprendista di roi con esatto cioè colui che impara infatti le tre regole che dice subito appunto proprio in una scena da da manuale proprio lui in cattedra roi con daniel trump quasi gli dice segna segna ci sono tre regole la prima attacca 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 non non importa attacca attacca l'avversario sempre seconda regola la verità è un concetto relativo ma soprattutto la verità è la mia verità se tu insisti quella verità diventa diventa assoluta e soprattutto è la la terza mi l'hai detta prima qualsiasi bugia detta tante volte diventa verità questa e c'è una c'è una terza che mi sono dimenticato che però troverete dentro di apprendi usa il sistema giudiziario come arma contro gli avversari e avere l'attenzione mediatica su di sede a tirare l'attenzione forse comunque la troverete moltissime cose su di apprendi su trump ma anche visto che lavoriamo a livelli anche ultranazionali come diceva coppola sentirete dire cose che magari rispettano questi dettami di roi con anche da altre parti da sia nella storia italiana è successo anche dalle parti del berlusconismo sia dalle parti di altri capi di stato che addirittura proprio senza pudore senza vergogna dicono delle robe che non stanno nel terra attacca 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 non ammettere mai nulla nega tutto qualunque cosa accada rivendica la vittoria e non ammettere mai la sconfitta ecco negare tutto anche davanti all'evidenza e mai ammettere la sconfitta c'è il che infatti il 6 gennaio c'è l'attacco a capitoli il ma ci sono tantissime altre cose anche di di queste settimane tutto questo mo in due ore molto molto dense ma per nulla noiose mai sono da 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 domani al cinema in in un bellissimo formato appunto anche di di grande fattura l'interprete di roi con jeremy strong secondo me arriva dritto dritto all'oscar potrebbe anche fare qualcosa sebastian stan nonostante le cattive recensioni di di donald trump stesso che tra l'altro è una cosa molto peculiare per i tempi che corrono di adesso cioè per la storia dell'arte per la storia dell'arte in generale ma per la storia del cinema è molto 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 difficile trovare se stesso che recensisce il film su stesso vabbè il protagonista che recensisce è una cosa piuttosto peculiare sulla figura di ivana trump interpretata da maria bakalova che tra l'altro avete forse visto nel nuovo film di borat quindi il seguito del film di borat molto molto brava a un poco minutaggio perché tutto è incentrato sul rapporto tra i due jeremy strong roy con e sebastian stamp daniel trump quello che è successo al personaggio di jeremy strong non vi deve rovinare la appunto la la sorpresa perché è proprio il viaggio importante quello che succede quello è appunto l'apprendistato di trump è il punto centrale di questo di questo film il la colonna sonora è veramente molto molto peculiare ci sono diversi c'è anche il ritorno dopo the civil war dei suicide all'interno della colonna sonora ma è molto 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 interessante vedere la la scelta registrica a volte un po esagerata perché si tende seguendo l'epopea di trump la la crescita e la costruzione anche della famosa trump tower che è edificata in un momento storico dove new york era abbastanza in declino per un fattore edilizio lui trump si ostina a realizzare questa questa torre questa questa magnificenza del del paese del mondo del dell'universo come enfatizza anche su direzione di roy con il però la patina un po da vhs che viene data dal film appesantisce un po il il gioco del cinema su questa storia quindi bene meglio di megalopolis ma non benissimo perché pure questo deve essere inserito all'interno della della recensione il film è molto godibile molto interessante non credo che sposterà più di tanto le sorti della penso che sia andato benissimo no 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 esce contemporaneamente in tutto il mondo però non credo sposterà più di tanto le sorti della delle prossime elezioni americane però tant'è va va notato e va sottolineato questo valore anche di narrazione attraverso gli occhi di una persona come adiabasi che non era coinvolto in prima persona quando queste cose erano sul nascere ma è coinvolto adesso come lo siamo coinvolti noi ed è utile interessante vedere la il gioco andiamo avanti con i pond solo non